Ancora cancelli contro il degrado e lo spaccio in città. Dopo quelli installati nelle gallerie di Campo di Marte, in via Crispi e nel palazzo di via Margaritone, altri cancelli sono stati montati in via Nazario Sauro, nel quartiere di Saione e in un complesso residenziale che si trova tra Vicolo Cavalcanti, via Guido Monaco e via Laurentino d'Arezzo. La giunta a Retina nei giorni scorsi ha infatti approvato due diverse istanze di altrettanti amministratori di condominio. La delibera è immediatamente esecutiva. A richiedere l'installazione erano stati i residenti. Entrambe le zone negli ultimi tempi erano state infatti oggetto di varie segnalazioni da parte dei cittadini che richiedevano un intervento del corpo di polizia locale al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di illegalità. Nelle aree condominali interessate erano state ritrovate ripetutamente chiazze di urina, escrementi, resti di bivacchi, bottiglie di birra ed alcolici vuote, rifiuti, imbollucri di siringhe e presumibilmente residuo del consumo di sostanze di stupefacenti. Ci passo spesso, prima non c'era, ora c'è, perciò si vede che ci dormono, qualcosa ci faranno, non lo so. Serviva? Sì, serviva molto. Perché? E per la sicurezza anche dei ragazzi che tornano a casa, che si tornano a casa con il motorino, insomma. Chi trovi sarà anche brava gente, però buttati per terra non possono stare. Un dormitorio era diventato? Sì, penso di sì.